Ragazzi ancora una volta con il poker con soldi veri e vi ricordo come prima cosa mi raccomando non prendetemi come esempio minorenni non possono giocare maggiorenni che giocate state attenti perché il gioco può causare dipendenza questa è una prassi che devo fare per voi perché vi voglio bene Questa sera alle 21 sarò in live con il poker e soldi veri cerchiamo di vincere oltre i soldi logicamente il ticket per il Sunday Million che si disputerà domenica mi raccomando ragazzi domenica è un torneo da un milione di euro di Montepremio garantito Mentre proprio due giorni fa ci siamo qualificati al Sunday Challenge un torneo siamo qualificati alla seconda fase ed ultima dove si vedono i cash dove si vincono i soldi lunedì alle 21 ci sarà il torneo Sunday Challenge ci siamo già qualificati Stasera cerchiamo di vincere il torneo arrivare a premi tra le prime nove posizioni oltre a vincere un sacco di soldi se dovesse arrivarci vinceremo anche il ticket del Sunday Million di domenica che costa il buy in pensate un po' 250 euro Siccome non voglio spendere quella cifra sto cercando di vincere il ticket entro domenica se non dovessi vincerlo domenica forse 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 potrei parteciparci giusto per regalare spettacolo sperando in bene anche di vincere qualcosa perché il primo posto becca intorno ai 300.000 euro pensate un po' Ragazzi alle 21 vi aspetto questa sera su Twitch link in descrizione ma una cosa importante dovete condividere a tutti quelli che conoscete Grazie a tutti